E' ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujaydin, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui sempre su Guild Wars 2 con Joe Zipper. Volevo raccontarvi insomma un'altra barzellettina. Questa volta è un po' zunza. Però vabbè, penso che siate abbastanza maggioreni vaccinati. Diciamo che in una casa dove purtroppo il matrimonio insomma finisce con la separazione della mamma e del papà, cioè la mamma parla con la figlioletta, insomma, una lunga discussione della mamma alla bambina che cerca di convincerla ad andare in terapia da uno psicologo. Poiché i genitori hanno divorziato e lei, come ripicca, si mette il dito in bocca e se lo ciuccia insomma. La mamma gli ripete sempre che non deve farlo, ma la bambina niente. Lo fa sempre, diciamo, ogni dieci minuti. Finita la discussione, la mamma si allontana. La bambina rimane lì, ragiona, riragiona. Poi, la bambina ormai convinta, cerca la mamma per dirgli che farà quanto gli chiede. Passa davanti alla camera della mamma, da letto, guarda all'interno e se ne va via scuotendo la testa, dicendo E mia madre mi vuole mandare dallo psicologo perché mi succhio il dito? Spero l'abbiate capito. E con questo è tutto. Nuo già è l'ultimo dei tavoli urbani napoletano. Vi saluto, a presto e ciao.